L'obiettivo in questo caso è più chiaro che mai. Il Palermo va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Archiviata la festa del Renzo Barbera due settimane fa con tre gol alla Feralpi Salò, la squadra di Corini cercherà continuità contro l'Ascoli, che in questa stagione è partito col piede sbagliato, soltanto una vittoria per la formazione di Viali, per il resto soltanto sconfitte. Brunori e compagni cercano il tris di successi e lo faranno in formazione probabilmente modificata rispetto all'ultima gara ufficiale. Dovrebbero restare fuori, almeno all'inizio, Vazic e Lund, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. In difesa, probabile dunque lo schieramento di Aurelio, mentre per il centrocampo i dubbi aumentano. Segre, Stulaz e Denderson hanno assicurato un ottimo rendimento a Corini, ma il neo arrivato Koulibaly scalpita per fare il proprio esordio con la maglia rosa-nero. In avanti, in attesa del rientro di Insigne, Di Mariano e Di Francesco dovrebbero partire ai fianchi di Brunori. Circa 500 i tifosi rosa-nero al seguito ad Ascoli. Guarda, sul centrocampo è vero, però ricordatevi che Claudio magari non ha la verticalità lunga, ma è un giocatore che il gioco te lo fa uscire pulito, sul raccordo corto esci sempre bene. Di consuenza, la scelta a volte rispetto a questo è cosa vogliamo andare a trovare sulla profondità e sappiamo che Leo, da questo punto di vista, ha le qualità importanti, sia per il cambio gioco, sia per l'attacco diretto alla profondità, che è un'arma che sfruttiamo spesso anche per valorizzare le caratteristiche di Matteo. E di consuenza, dentro la partita ci sono anche gli avversari, e di consuenza anche l'Ascoli gioca con due trequartisti sotto la prima punta, e dunque abbiamo lavorato per capire come coprire bene questo spazio di campo e come poi possiamo andare a riproporci. E di consuenza, la valutazione è fatta appunto di quello che vorrò fare all'inizio gara, sapendo anche che dentro ci posso lavorare a secondo poi della prestazione del singolo barra di quello che può funzionare più o meno. Rispetto alle soste, è vero che quest'anno è un anno nuovo, di consuenza siamo curiosi anche noi di capire come andremo a approcciare la partita dopo le due settimane di sosta, ma la squadra l'ho vista bene, ha lavorato bene, tutti i carichi sono controllati, e di consuenza siamo pronti per me per fare una grande prestazione, e di consuenza spesso le grandi prestazioni sono coronate anche dal risultato, e l'upgrade di quest'anno è quello che la ricerca del risultato deve essere dentro quella prestazione. Spesso vi ho detto che in B capitano le partite sporche, la volontà è quella che quando diventano sporche le devi saper pulire e devi saperle portare dove vuoi tu, e dunque la ricerca anche dentro gli allenamenti è proprio di capire quanto è importante l'equilibrio mentale dentro la difficoltà, spesso creiamo situazioni di sfida, spesso creiamo stress emotivi proprio per far capire quanto è importante reggere dentro la partita, saperla orientare, saperci stare dentro e portarla dove vogliamo noi.